musica ho appena fatto un tweet dell'inizio prova di oggi mi trovate su facebook e su twitter e oggi molto caldo veramente il primo avversario è stato il caldo l'abbiamo affrontato però bene abbiamo fatto due prove da 26 km e poi l'è stato bravissimo qui domani si perde per primi perché abbiamo 25 secondi di vantaggio su Umberto quindi stasera dormire e sperare di andare bene anche domani ciao 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 ciao